Da sabato mattina la toponomastica spezzina si arricchirà di una nuova dedicazione. A chi è dedicata questa nuova strada e dov'è? La strada è dedicata al pastore evangelico battista Edward Clark, che è stato il primo missionario a venire nella nostra città nella primavera del 1866. La strada si trova esattamente dietro la clinica Alma Mater, tra lo stradone Doria e la piazzetta Mario Bertoli. Ed è in quel luogo lì perché fino alla seconda guerra mondiale l'attuale Alma Mater era l'orfanotropio femminile della chiesa battista, della missione battista. Chi era questa figura? Questa figura è molto importante nella storia della nostra città perché lui è venuto in quanto è stato colpito dalla bellezza del golfo ed anche dall'analogia della nostra città, città sede della prima divisione navale che gli sembrava molto simile a Portsmouth, lui era inglese, dove ha sede la principale base navale del Regno Unito. Quello che lui ha fatto in modo precipuo è stato le scuole. Le scuole hanno avuto, fino a che sono state chiuse dal fascismo, il 9 dicembre del 1935, hanno avuto una media annuale tra i 1000 e i 1500 allievi ed erano non dov'è l'attuale sede della chiesa battista in via Milano 40 ma erano esattamente in via Persio, a Casa Alberto, un enorme palazzo dietro l'attuale statua dei Garibaldi, palazzo che esiste ancora, che era anche la sede fino al fascismo della direzione provinciale del Partito Repubblicano, dell'Associazione Mazziniana. Quindi un educatore nella nostra città. Principalmente sì, infatti esiguo il numero delle persone che poi hanno aderito alla chiesa evangelica, ma lo stesso vale anche per le altre due scuole, quella, sempre scuole primari, elementari, che avevano luogo nei locali della chiesa metodista, quella in via da Passano, e a Marola c'era una chiesa libera. Questi alunni ricevevano assistenza completa, è noto che per la legge Coppino del 1879 i comuni erano tenuti alla istruzione elementare, ma non avevano i fondi, quindi davano il benvenuto a tutti. Anche i salesiani nel 1877 sono venuti perché facevano un'azione educativa che il Comune di Spezia non sarebbe stato ingrato di effettuare.